ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video bluetti che sta proponendo un sacco di novità non riusciamo a fermarci un attimo è arrivata la nuova batteria b 300k che cos'è la b 300k e perché è stata fatta allora b 300k è stata fatta per andare incontro ai clienti facendo cosa andando a ridurre leggermente la capacità perché passiamo da 3 kilowatt a 2 kilowatt e 7 fondamentalmente 27 64,8 togliendo delle funzionalità che giustificavano il prezzo più alto di acquisto di una b 300 perché non abbiamo più l'uscita 12 volt abbiamo solo un usb soprattutto non abbiamo gli ingressi di ricarica diretti in batteria vedete che qui da sola in carica sto entrando dall'ingresso xt 90 tira al massimo 200 watt ad esempio in questo caso abbiamo collegato un singolo pannello che sta dando circa 38 volte adesso non c'è tanti watt perché sono le 10 di mattina tra l'altro oggi anche brutto però comunque qua potete entrare con un pannello non solo quando è da sola ma anche quando è collegata alla power station perché oltre a ricevere energia dalla power station potete aggiungere 200 watt di ricarica cosa che chiaramente sulla 300k non potete più fare in questo modo è diventata un po più piccola un po più leggera e soprattutto costa meno perché questa è una batteria che a listino dovrebbe poi costare 1799 1800 euro ad oggi è venduta 1299 euro in offerta ma se vi logate e vi registrate il sito potete prenderla per un breve periodo e affrettatevi a 1099 euro 1099 euro che pochissimo vi lascio il link in descrizione da cliccare vi registrate vi logate la comprate e fate un affarone perché ho subito parlato di un confronto con la b300 perché la b300k fondamentalmente va interpretata come una b300 per tutto quello che è la compatibilità con inverter power station mini fotovoltaico eccetera 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 tutto ciò a cui potevate collegare una b300 potete collegare anche la b300k e soprattutto nello stesso modo perché ha due porte per le batterie ha lo stesso cavo della b300 e il problema non esiste non dovete farvi domande se monta con al posto di dove poteva montare una b300 montano a b300k l'unica macchina su cui non si può collegare direttamente è la c500 dove potete comunque utilizzarla ma ci va al cavo adattatore esattamente come succedeva con b300 oggi faremo delle prove con ac200 max ac200l per farvi capire come comportarsi nei collegamenti con due batterie singole o con due batterie collegate fra loro la domanda adesso è b300 scomparirà no attualmente rimangono b300 b300s e b300k che arriva ma tendenzialmente pian piano andrà a sostituire b300 dopodiché è una semplicissima espansione l'attaccate la usate come espansione per una pole station con l'accumulo interno o come batteria per ad esempio la c300 vi ho detto praticamente tutto il video potrebbe finire qui ma in realtà facciamo qualche prova soprattutto vi faccio vedere un po tutto il discorso in balli insomma analizziamo tutto quanto la confrontiamo chiaramente con b300 e la proviamo su qualche macchina prima di andare avanti col video però mi raccomando iscrivetevi al canale che non costa nulla così mi aiutate a crescere e proveremo prodotti sempre più interessanti iniziamo a parlare degli imballi perché non è un discorso da sottovalutare allora partiamo già dall'imballo perché vedete che la scatola è più stretta e molto più bassa della scatola di una b300 quindi già solo per una questione logistica di spedizione pallet eccetera anche perché un'azienda che spedisce diciamo a livello intercontinentale guadagnare anche solo 20 centimetri per imballo diventa molto importante ma anche a livello internazionale per muovere i prodotti e anche a livello nazionale per trasportare poi al rivenditore o al cliente finale il prodotto quindi questa è già una differenza importante ok chiaramente questo non vuol dire che l'imballo non è protetto perché abbiamo sempre comunque la doppia scatola e mi raccomando lo dico sempre ai miei clienti bisogna tenere l'imballo originale questa scatola ma io raccomando di tenere anche quella esterna perché in caso di restituzione per garanzia vogliono l'imballo originale quando dico è guarda che c'è scritto mi dico ma dove non è vero è scritto qua dicevamo protezioni comunque presenti abbiamo la protezione superiore certificato manuale ampia ben dimensionata robusta come al solito troviamo la scatola degli accessori che in realtà sarà unicamente il cavo di collegamento che è esattamente quello di b300 anzi verifichiamo questo a destra è un cavo di b300 questo è il nostro nuovo cavo di b300k cosa cambia cambia semplicemente che abbiamo questo adesivo in più stesso identico connettore non cambia assolutamente niente stesso cavo tutto assolutamente identico come la lunghezza per poi arrivare alla nostra nuova b300k che ora mettiamo sul tavolo chiaramente si manovra con più facilità rispetto a un b300 perché è un po più leggera analizziamola da sola poi facciamo un veloce confronto dunque tutta la parte in plastica robusta come l'uetti ci ha abituato leggermente diversa dalle altre abbiamo sempre l'indicatore di percentuale di ricarica con 5 led che lampeggeranno rimarranno fissi in base allo stato di carica abbiamo solo un usb frontale tipo a 12 watt tutto in plastica maniglie però con una plastica leggermente gommosa le stesse che avevamo su b300 qui di dato abbiamo le porte di espansione esattamente come le altre batterie sul retro abbiamo le specifiche ma abbiamo anche questi quattro filetti diamo un'occhiata alle caratteristiche b300k tensione nominale 51.2 volt range di lavoro da 40 a 58 volt massima corrente di carica 60 ampere e discarica 70 la parte di accumulo questa volta diventa 2764.8 watt ora questo valore col punto 8 indicato semplicemente perché se fate esattamente 54 per 51.2 esce fuori questo l'usb a frontale è una 5 volt da 2.4 ampere temperatura in scarica da meno 20 a 40 gradi temperatura di carica da 0 40 gradi lavora in ambienti con umidità dal 5 a 95 per cento tutte le certificazioni del caso sulla parte sotto abbiamo due ampi piedini in gomma esattamente com'era la b300 allora proviamo ad accenderla batteria che arriva all'80 per cento se dobbiamo usarla come grossa power bank l'uscita usb si attiva quando la accendiamo quando la spegniamo si disattiva la ricarica mi dà sempre l'uscita finché la batteria è accesa qui sotto abbiamo delle piccole griglie per l'ingresso dell'aria e qua sul lato sinistro c'è una griglia più grande con presente una ventola per poi arrivare al confronto vero e proprio con la b300 allora notate subito l'estetica diversa abbiamo qui anche la scritta logo bluetti che non è più azzurro ma è di questo grigio chiaro anche l'indicazione della scritta del modello e della capacità è diversa la grafica della lavorazione della plastica è leggermente diversa la struttura qui comprende un unico coperchio tenuto dalle viti qui invece abbiamo un coperchio parziale che viene via tenuto dalle viti e poi una struttura secondaria abbiamo più o meno le stesse maniglie e chiaramente cambiano le connessioni frontali perché non abbiamo più due usb e la porta da 12 e non abbiamo la possibilità di scegliere indifferentemente di accendere la batteria e la parte in dc il pulsante cambia perché non è più quello metallico come ac 300 ac 500 eccetera ma diventa plastico dove su b300 si illumina il cerchio verde e dove su b300k si illumina invece il simbolo di accensione chiaramente cambia l'altezza perché abbiamo una batteria che è quasi 21 centimetri contro una batteria che è 26 e mezzo invariata la lunghezza che su entrambe è di 52 invariata la profondità che su entrambe è di 32 qui abbiamo un sistema di raffreddamento nonostante qui ci sia un elettronica gli mppt e tutto qui no qui abbiamo le due porte di espansione con i connettori girati al contrario qui abbiamo le due porte di espansione con i connettori con la linguetta verso lato quindi su b300 li mettiamo entrambi col gancio di qui sopra su b300k ne mettiamo uno con l'aggancio verso destra e uno con l'aggancio verso sinistra cambiano anche gli sportelli in gomma che vedete qui sono tenuti da due linguette mentre il tipo vecchio era tenuto da una singola linguetta e mezzo e quello che cambia soprattutto è la presenza nella b300 di un ingresso di ricarica dc con connettori xt90 12 60 volt da 10 ampere massimo 200 watt è un altro ingresso 58.8 volt 8 ampere al quale potevamo collegare il caricatore il potenziatore d 0 50 s con la sua uscita prova con ac 200 max casualmente ne avrevo uno in negozio così proviamo la b300k insieme alla b300 primo esempio ac 200 max posso collegare al massimo due batterie 2b 300 quindi vuol dire che posso collegare anche una b300 una b300k quando accendo la c200 max si accendono le batterie no questo come sempre quindi spengo la c200 max accendo le due batterie accendo la c200 max e abbiamo le tre batterie quindi abbiamo la batteria interna al 16 per cento la batteria 2 che sarebbe la b300k al 71 per cento e la batteria numero 3 al 61 per cento se spengo la b300 vedete che va via solo la terza se riaccendo la b300 ritorna al 61 se spengo la b300k vedete che va via solo lei quindi riaccendo tutto il sistema torna a vedere la batteria per un secondino è partita la ventola del b300k allora lui mi dice che in questo momento c'è la 16 in carica la 71 in scarica e la 61 la b300 in standby sembrerebbe un comportamento come a tirare su la batteria più bassa da parte di quella più alta ma nella realtà dei fatti vedete che non entra nulla lui mi dà comunque la media di 49 tra tutte e tre ma non sta tirando su la batteria interna di ac 200 max proviamo a metterlo in carica parte l'ingresso di circa 500 watt dal suo alimentatore in questo momento sta caricando la b300 che era più bassa non sta caricando la b300k se vado da display mi dice che sta caricando la sua interna e che la b300k e la b300 sono in standby quando in realtà la batteria la sta caricando forse forse la gestione di ac 200 max non è evoluta e precisa come gli altri modelli allora c200 max è una macchina che ha qualche limite la gestione non è ottimale anche il fatto che non comanda direttamente le accensioni però comunque la puoi gestire ora mi sposto su a c200 l che è molto più versatile in questo senso ma attenzione mi raccomando la prima cosa da fare è aggiornare il firmware di ac 200 l altrimenti non riconosce la b300k e potrebbe andarvi in errore con due luci rosse e i due pulsanti dc ac lampeggianti perché non riconosce la periferica quando avete aggiornato la macchina siete tranquilli potete collegare la b300k insieme a una b300 o solo una b300 insomma potete fare quello che volete perché sono assolutamente intercambiabili e si possono connettere tra loro a c200 l che ha un solo ingresso batteria ci richiede quindi di attaccare il cavo a una batteria che poi a sua volta andrà attaccata con l'altra non è importante mettere prima una prima l'altra ho già provato le riconosce senza problemi il comportamento è diverso rispetto a c200 max perché quando accendo la macchina in automatico accenderà entrambe le batterie stessa cosa che succederebbe con ac 300 o ac 500 la gestione di ac 200 l è la medesima se non per il fatto che ha un unico ingresso batteria e che bisogna collegare tra loro le due batterie dopodiché viene riconosciuta funziona regolarmente la percentuale che vediamo display e la media ma se guardiamo l'angolo in alto a sinistra vedete che riconosce collegata batteria 1 e batteria 2 ora per visualizzare le batterie i tre pacchi separati dobbiamo accedere all'applicazione come si comporta con gli ingressi e le uscite semplicemente come se avessimo due batterie assolutamente identiche quindi in questo momento abbiamo un ingresso fotovoltaico di 180 watt un ingresso ac impostato a 3 ampere vedete che su media qui abbiamo 60 per cento che appunto la media delle due batterie più la sua interna se invece dentro app andiamo in pacco batteria visualizziamo pacco 1 c 200 l 50 per cento in carica pacco 2 b 300 k 71 per cento in carica e b 300 61 per cento in carica gestione separata delle tre batterie ma che la centrale riesce a uniformare come percentuale media fin quando non le avrà portate tutte al cento per cento e poi inizierà la scarica intanto siamo arrivati a una media del 77 per cento se andiamo ad analizzare singolarmente i pacchi batteria che abbiamo quella interna al 68 la b 300 k all 81 e la b 300 all 83 continuo a mandare avanti la ricarica allora siamo arrivati al 90 per cento pacco batteria in realtà abbiamo il primo a 85 la 300 k 94 e la 300 al 92 allora siamo arrivati a una media del 97 per cento dove in realtà la prima e al 96 la 300 k e al 98 e anche la 300 e al 98 quindi perfettamente livellate ora termina per portarle tutte e tre al 100 per cento e poi iniziamo scaricare allora siamo arrivati al 100 per cento abbiamo tutti e tre i pacchi batteria allineati perché mi dà b 300 k 100 per cento batteria interna 100 per cento e b 300 al 100 per cento attacchiamo un carico sulla c di 2000 watt faccio andare un po giù la percentuale media e vediamo come si scaricano le tre batterie ok siamo arrivati all 87 per cento spengo sto casino infernale andiamo a vedere invece le tre batterie come si sono livellate apriamo il pacco batteria vedete che abbiamo la batteria interna all 84 la b 300 k all 86 e ad esempio la b 300 è rimasta al 93 è una condizione che a volte si presenta perché calcolate che più batterie avete in un sistema quindi più espansioni mettete più è facile che non siano livellate non saranno mai perfette però il fatto che poi siano troppo scompensate magari una 60 1 a 20 potrebbe esserci un problema di allineamento dei bms non è questo il caso perché questa è nuova queste sono nuove ho già fatto una carica una scarica sono abbastanza livellate eppure vedete che c'è una differenza di percentuale quando poi sono enormi a volte mandando il seriale a bluetti mandano un firmware per correggere eventuali bug del bms però tendenzialmente partite dal presupposto che non sono mai perfette e che comunque quando si sbilanciano la prima procedura da fare è portarle completamente a zero senza ingressi riportarle al 100 senza uscite in modo da riallineare i bms il battery management system che regola le celle interne dei pacchi batteria se ci sono problemi di assistenza si interviene però ripeto è facile che non siano perfettamente livellate tra loro comunque in questo caso abbiamo creato una roba mica da ridere perché abbiamo 2 kilowatt più 3 più 2.7 ce n'è già è bene e questo è quanto chiaramente collegandola ad una c300 potete entrare con due batterie dirette nella c300 o con 4b 300k che è il massimo della configurazione esattamente come con b300 ne collegate due dirette e due a ponte sulla batteria prima come detto all'inizio video non cambia nulla dovete considerarla come una b300 quindi mi raccomando prezzo bomba approfittatene c'è il link in descrizione se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando ricordatevi sempre noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta del giovedì sera se passate il negozio da torino ci facciamo un caffettino e attualmente ce l'ho esposta in negozio poi non so per quanto tempo rimarrà lì grazie a tutti ciao da massidattoli